Allora, come sono andate gli spisi di novembre 2020? Avete prosciugato i vostri conti correnti? Non avete più soldi? Male, molto male, perché dovrete tirare fuori qualcosina ragazzi, qualcosina anche a dicembre 2020. Certo, non si tratta di un mese così tanto pieno e ricco di grandissimi videogiochi, ma senza indubbiamente direi che ci sono almeno due bellissimi AAA. Alcuni titoli davvero molto interessanti che aspettavamo da tanto tempo e alcuni titoli indie che vi faranno passare davvero dei momenti indimenticabili. Nella top 10 ne abbiamo visti tanti di videogiochi e alcuni di voi si saranno interessati ad alcuni videogiochi, avranno detto sì questo sì e questo no. Bene, adesso è arrivato il momento dei best videogiochi in uscita a dicembre 2020 e tra quelli che ho scelto ci sono titoli AAA, titoli indie, ma tutti indubbiamente molto belli e assolutissimamente da non lasciarsi scappare. Per cui mettetevi comodi, preparate il vostro portafoglio e vediamo cosa ci propone l'ultimo mese del 2020. Davvero molto, molto ricco di bellissimi videogiochi. E voglio iniziare con un videogioco che sono sicuro che molti di voi non gli daranno neanche 5€, ovviamente stiamo parlando ragazzi di un indie, ovviamente stiamo parlando di un titolo che non ha il ray tracing, ma stiamo parlando di un titolo che praticamente sarà disponibile su qualsiasi piattaforma, ma partono di Nintendo Switch, tutte le console Sony, tutte le console Microsoft, ma ovviamente anche PC. Sto parlando di Heaven. E ragazzi, Heaven è una bellissima storia tra due amanti che rinunciano a tutto e sono fuggiti da un pianeta che è praticamente dimenticato. Ed ora devono entrare in un nuovo pianeta, appunto nel loro Heaven, nel loro paradiso. E qui ragazzi c'è un paesaggio tutto da scoprire, c'è un mondo tutto da esplorare, un mondo ricco, pieno, zeppo di combattimenti, segreti, ma soprattutto una storia davvero molto ricca. Ho potuto assaggiare, amici, la grafica, ho potuto assaggiare le musiche, ho potuto anche vedere questa bellissima grafica, i dialoghi tra questi due personaggi, il motore di gioco e di gameplay. E ve lo posso dire, forse non sarà a livello di un Assassin's Creed Valhalla, poco ma sicuro, ma c'è una vera relazione tra questa coppia. E voi la dovrete nutrire e questo mondo dovete esplorarlo, dovete cercare di vedere questa avventura che può essere ragazzi giocata sia in singolo, sia in co-op multiplayer oppure locale. Ebbene sì, potete giocarlo con i vostri amici. Perché? Perché c'è anche una componente di gameplay, una componente in cui combatterete e sarà fortemente centrato ragazzi su una meccanica a turni. E poi ci sono tutti dei personaggi da scoprire, ci sono tantissimi mostri da affrontare, c'è da eliminare la ruggine che sta in qualche modo bloccando e accerchiando tutto il vostro bellissimo heaven. Il tutto ragazzi con le musiche e l'art style che state gustando in questo preciso momento. Inutile poi dire che il titolo lo potrete comprare ad un prezzo davvero molto, molto low. Ma low non vuol dire di scarsa fattura, come state vedendo e come sicuramente molti di voi assaggeranno. Ok, abbiamo parlato di titoli impegnativi in tutti questi mesi e allora perché non possiamo divertirci un pochettino? Ebbene sì ragazzi, Worms è tornato. Bellissimo i nostri vermetti, zuppa di culo, i termosifoni. Questo bellissimo gioco è diventato ancora, ancora più grande. Ecco, questo è un altro titolo ragazzi che arriverà il primo dicembre 2020 per playstation 4, anche pc. E che devo dire? Beh è diventato davvero molto vasto. All'improvviso queste incredibili battaglie tra i nostri importantissimi vermi, tra cui voglio salutare il mio amico zuppa di culo. Ehm... ce ne saranno davvero molti di più. Potrete giocare sì singolarmente con una bellissima campagna single player di difficoltà sempre crescente, ma il meglio del meglio lo dà insieme ai vostri amici, insieme ad avversari sparsi per il mondo. Inoltre vi dico e vi informo che il titolo è diventato molto più grande. Questo vuol dire che fino a 32 giocatori reali potranno scontrarsi in un supporto totalmente cross platform. Per cui che voi giochiate da pc oppure giocate da playstation potete combattere o potete combattervi. Le modalità poi c'è il solito deadmatch, poi c'è l'ultimo verme e poi è stato aggiunto ovviamente una battle royale che è diventata davvero molto molto carina. Ma che cosa ha reso grandi i vermi? Ma ovviamente le loro armi, ovviamente la loro incredibile distruzione, ovviamente ragazzi vi devo ricordare che all'interno di questo titolo c'è la piccola, la super piccola, oppure l'asino, oppure abbiamo la granata sacra che farà alleluia e poi farà un botto enorme. Insomma di tutto per far fuori il verme avversario. E questo amici anche qui potrete ottenerlo ad un prezzo davvero molto molto cheap su Steam è disponibile a circa 14,99€. Che dire, se volete divertirvi, non volete spendere tanto questo mese e volete proprio, davvero, farvi venire un bel sorriso nella bocca insieme a vostri amici sparsi per il mondo, sì, Worms è il titolo che fa per voi. Bene, ora è arrivato il momento dei AAA, perché sì ragazzi Ubisoft non ha finito di scagazzare i suoi titoli negli ultimi mesi dell'anno e dopo Watch Dogs, dopo il bellissimo Assassin's Creed Valhalla, è il momento di Immortal Phoenix Rising. E qui, lo so, il pubblico è davvero spaccato. C'è chi vede questo videogioco e alcuni vedono che è lo spirito di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alcuni si chiedono se non sia una copia di Assassin's Creed Odyssey. Altri invece ragazzi vedono solamente la grafica e dicono, Beh, che schifo! Beh, dopo Assassin's Creed Valhalla ragazzi, questo è un altro stile grafico. Ma lasciate un attimino che vi illustri che cosa ha da offrirvi questo incredibile gioco di ruolo. È un'avventura incredibile dove il vostro personaggio, che voi potete scegliere se maschio o femmina, ovviamente affronterà tanti personaggi della mitologia greca. E poi vi devo raccontare della dinamicità della mappa di gioco che muta in base a diversi fattori. Per farvi alcuni esempi, nell'arco narrativo dovrete affrontare le ire di Tisifone, che amici, a un certo punto farà piovere dal cielo palle di fuoco. Poi vogliamo parlare un attimino di tutto il fattore, il gioco di ruolo, di come il vostro personaggio avrà una pletora enorme di possibilità, di come voi potrete scegliere se utilizzare arco, spada o ascia, di come ragazzi il mondo è ricco di loot, oppure vi devo raccontare del bellissimo gameplay che in qualche modo è molto semplice, lineare, ma allo stesso tempo ragazzi è godibile da tutti. Questo non è un titolo che potremmo definire hardcore come lo è ad esempio un Dark Souls, ok? No, è un titolo, potremmo definirlo un pochetto più blando, un pochetto più tranquillo, dove anche i colori del mondo, vedete, bello, rigoglioso, in qualche modo ci fanno dire, ma sì, chi se ne frega dei dettagli, che bello il mondo lussureggiante, che bella questa grafica, che belle queste ambientazioni, artisticamente è davvero molto ispirato, e che dire, Ubisoft su questo titolo sta davvero puntando molto, per cui ragazzi se pensate che sia un clone di Zelda, oppure un clone di Assassin's Creed Odyssey, oppure un clone di chissà qualche altro videogioco, no ragazzi, è un titolo che verrà supportato per molto, molto tempo, infatti ci saranno già anche dei Season Pass, sarà un titolo molto ampio, sarà un titolo che punta moltissimo sul gameplay, e molto poco sulla grafica. Penultimo titolo di questa classifica, e non ero sicuro ragazzi di metterlo, perché in questo preciso momento io sto registrando il video il 15 di novembre, e poco pochi giorni fa alcuni rumor, ok, hanno fatto intendere che Cyberpunk 2077 potrebbe venire posticipato nuovamente. Ecco ragazzi, qui io spero, spero vivamente tanto di no. Dopo un posticipo che ragazzi in qualche modo ci ha fatto davvero storgere il naso, e ci ha fatto anche in qualche modo imprecare di non poterlo avere a novembre 2020, il titolo è atteso per le console next gen, current gen, google study e naturalmente pc, il 10 dicembre 2020. E qui ragazzi, basta, abbiamo già detto di tutto, abbiamo già detto di tutto e di più. È un mondo che non potrebbe neanche essere paragonato a tutto quello che avete visto, è un mondo che non ha niente a che fare con quello che avete visto in The Witcher 3, è un mondo unico, è un mondo che ragazzi probabilmente presenterà delle meccaniche che nessun altro videogioco ha mai portato, come l'incredibile intelligenza del mondo, che si adatterà. E ragazzi, saprà prendere in qualche modo le misure per come voi vi comporterete, per come voi vi vestirete, per come voi interagirete con loro. Insomma, amici, un open world, un gioco di ruolo meraviglioso, ne abbiamo parlato tanto, c'è davvero tanto da sapere. L'ultima cosa davvero importante è 10 dicembre 2020, è la data definitiva di uscita di Cyberpunk 2077, in molti, me compreso ragazzi, lo sperano con tutto il cuore. E per ultimo, un titolo che a me sinceramente piace davvero tanto. Perché piace tanto? Perché a me piacciono gli strategici gestionali, e quando uno strategico gestionale in qualche modo ricaica il bellissimo gameplay di un XCOM, e poi mi porta nell'era del proibizionismo della Chicago del 1920, io praticamente divento pazzo. E divento pazzo di gioia perché il titolo è davvero l'espressione massima di tutto quello che ho visto in XCOM 2, e cioè il suo incredibile sistema di gameplay, ok? Solo che è molto, molto più avanti dal punto di vista della strategia e della gestione. Noi, amici, dovremmo scegliere tra uno dei grandi boss della malavita di quegli anni. Per fare un semplice esempio, ragazzi, potremmo scegliere anche Al Capone. E poi mettiamo su una banda, una banda di gentaglia, una banda che noi possiamo andare a rimpolpare, possiamo cambiare quando vogliamo. E poi iniziamo a, ragazzi, lottare per avere il controllo di Chicago. E ci sono davvero tanti boss, ci sono davvero tante opzioni. Non è solamente una questione di andare in un punto e combattere. No, noi potremmo iniziare a indebolire gli imperi degli altri, magari rubandogli tutto il traffico delle sigarette o del rum, ok? Per cercare di far arrivare meno soldi ai nostri avversari. E poi attaccarli nella loro base. E attaccarli, ragazzi, non solo con il mitra, ma possiamo anche avvelenarli, possiamo anche corromperli, possiamo, ragazzi, gestire al meglio l'impero. E delle possibilità davvero molto variegate. Un altro titolo che in molti stanno aspettando, io personalmente, ragazzi, lo tengo sott'occhio, appunto perché mi piace questo genere di videogiochi. Un altro videogioco che ho già trovato ad un prezzo molto accessibile. All'incirca 40 euro, ragazzi, su PC, ma è atteso anche su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox. Per cui, che dire, vi piace questo genere di videogiochi? E allora puntatele. Non puntano tanto sulla grafica, non abbiamo bisogno, ragazzi, di questa incredibile potenza, ma abbiamo bisogno di un titolo dove ogni nostra scelta e ogni scelta dei nostri avversari poi comporterà delle conseguenze e degli effetti. E questo è ciò che più mi appaga. Avere ogni volta un titolo sempre diverso, sempre dinamico, ma soprattutto con tantissime opzioni di scelta a mia disposizione. Bene, nel dicembre 2020 forse non spenderemo così tanto, ma come avete visto ci sono questi 4-5 giochi davvero molto, molto interessanti. E voi cosa state puntando? Quale gioco vorreste? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo il mese prossimo. Ciao! Ciao!